salve a tutti ho le pizze di v vila chiara una magia guardate che roba vi sto portando in casa quest'oggi ho le pizze di v vila chiara una magia guardate che roba vi sto portando in casa questo oggi questa è magia mira ombre vuoi lento solo soltanto solo i pezzi di v vila fuori io tanto però viene pure tu questa è una magia guardate che roba vi sto portando in casa il cucuzzolo il cucuzzolo solo soltanto è una magia un regalo per tutti quelli che non possono imparare il cucuzzolo da questo punto di vista in casa questa è magia che vi ha regalato solo soltanto questo vi saluto e vi rimando alla prossima ancora un piccolo giro che vi regala all for you tanto prima o poi viene pure tu questa è magia questa è magia all for you all for you guardate che roba ho le pizze tv solo e soltanto su ho le pizze tv arrivederci alla prossima ho le pizze tv tanto prima o poi viene pure tu